Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Eccoci in un altro video dedicato alla sicurezza informatica. Oggi parliamo di come rimuovere gran parte della pubblicità malevola che ci compare sul web. Molte volte ci compaiono banner che ci propongono qualsiasi cosa e all'interno di questi banner sono contenuti dei virus. Come facciamo a proteggerci? Oggi ci proteggeremo in un modo molto semplice, tramite i full DNS. Intanto cominciamo a cercarli. Vedete, full DNS, monitoraggio di rete, a norma di legge. Spieghiamo un attimino che cosa sono i DNS. I DNS non sono nient'altro che delle tabelle. Dovete sapere che internet non funziona con i nomi dei siti, come per esempio questo che si chiama fulldns.com, ma funziona con degli indirizzi univoci. Cosa succede quando noi digitiamo il nome di un sito tipo www.google.com all'interno del nostro browser? Il nostro browser interroga un server, che è appunto il server DNS, il server DNS gli dà la corrispondenza del numero rispetto a questo nome, e il browser si collega all'indirizzo precisato. I DNS che utilizziamo noi di solito, quelli che ci dà per esempio il nostro provider o i DNS di Google, comprendono tutto ciò che c'è sul web, o quasi. Poi magari parleremo in un altro video di cosa non comprendono queste tabelle. Invece questa ditta, che cosa fa? Crea una tabella in cui volontariamente vengono rimossi tutti gli indirizzi a siti malevoli. Quindi cosa succede? Nel momento in cui il browser interroga il server DNS per uno di questi banner pubblicitari, il server DNS gli risponde che non sa niente. E allora non ci compare, al posto che la pubblicità malevola, un bel not found. E questa è una cosa fantastica. Come si fa a mettere o impostare i nostri full DNS? Innanzitutto andiamo qui su versioni e prendiamo questo provalo gratis. Vedete che per le aziende costa. Eccoli qua, i due indirizzi univoci di numeri, questi sono indirizzi P, dei server DNS. DNS vuol dire domain name system. Dobbiamo impostarne sempre due, perché se uno per caso è offline, c'è sempre il secondo che può aiutarci. Contate che se questi server non funzionano, noi non riusciamo a navigare. Perché il browser non riesce a capire la corrispondenza tra l'indirizzo che noi digitiamo e l'indirizzo IP univoco che è conosciuto da internet. Allora, per cambiare DNS è molto semplice. Andiamo qui sotto nella barra e clicchiamo due volte sulla nostra connessione. Per esempio qua c'è FastWeb, ci clicco due volte, poi apro centro connessione di rete condivisione. Su Windows 10 è esattamente la stessa cosa. Qui andiamo su connessione rete wireless e andiamo su proprietà. Cerchiamo protocollo internet versione 4, che è quello che utilizziamo noi. Vedete che qui c'è scritto ottieni automaticamente indirizzo IP. Ottieni indirizzo server DNS automaticamente. Noi dobbiamo cambiare questa impostazione, mettere utilizza i seguenti server DNS e poi dobbiamo semplicemente copiare questi numeri. Quindi, vediamo un pochettino. 87, 118, 111, 225. Quindi, 87, 118, 111, 125. Poi, il secondo. 213, 187, 111, 62. 213, 187, 111, 132. Controlliamo. 62. Magari se me li fossi segnato sarebbe stato meglio. Comunque, una volta impostati, facciamo ok, ok. Lui si ricalcola tutto e da questo momento in poi, noi utilizzeremo, al posto che i DNS del nostro provider, in questo caso Fastweb, questi DNS, e praticamente la totalità delle pubblicità malevoli ci verrà rimossa. Noi vedremo, a lato dove ci sono i banner, tantissimi not found, che sono tutte quelle pubblicità che potrebbero nascondere dei virus. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito il video, scusate se è stato un po' troppo lungo. Se c'è qualcosa che non avete capito, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Intanto, mettete un bel pollice in su, per questi video sulla sicurezza informatica, che è sempre importante. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.